Erika Biagini, capolista della lista Emilia Romagna Coraggiosa all'interno della coalizione di centro-sinistra a sostegno di Stefano Bonaccini. Che lista è e quali sono i temi su cui porterete avanti la vostra campagna elettorale? Emilia Romagna Coraggiosa è una lista di sinistra che fa parte di un progetto che coinvolge sia persone provenienti dal mondo politico che provenienti da impegno civico e civile. Si propone come lista che vuole proporre un modello di sviluppo economico nuovo, un modello di sviluppo economico nuovo che unisca la questione ambientale alla questione sociale. E quindi una delle prime proposte che abbiamo fatto al presidente Bonaccini è stata quella di proporre appunto un patto per il clima e di mettere nell'agenda politica di governo nei prossimi cinque anni in Emilia Romagna una attenzione primaria e particolare alla questione ambientale. Alla questione ambientale ma anche alla questione sociale perché comunque è vero che in Emilia Romagna si vive abbastanza bene, che la qualità della vita è migliorata, che l'occupazione è aumentata, però persistono ancora tante situazioni di disagio sociale e soprattutto la qualità del lavoro non è diciamo così buona e c'è ancora da lavorare soprattutto nel miglioramento dei salari e dei diritti dei lavoratori. Ci sono situazioni di sfruttamento, ci sono situazioni in cui i lavoratori vivono in condizioni di disagio e quindi bisogna cercare di porre l'attenzione in particolar modo su queste tematiche, portandole avanti assieme e questo diciamo che è l'obiettivo di Emilia Romagna Coraggiosa, dare attenzione al lavoro, alla questione ambientale e ai giovani. Cercare di migliorare anche le condizioni dei giovani.